Un caro saluto a tutti, in questo sabato 13 luglio ci mettiamo in ascolto del Vangelo che anche oggi ci viene regalato dalla liturgia. Siamo nel Vangelo di Matteo. In quel tempo disse Gesù ai suoi apostoli, un discepolo non è più grande del maestro, né un servo è più grande del suo signore. È sufficiente per il discepolo diventare come il suo maestro e per il servo come il suo signore. Se hanno chiamato Belzebul il padrone di casa, quanto più quelli della sua famiglia. Non abbiate dunque paura di loro, poiché nulla viene nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze, e non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella genna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura, voi valete più di molti passeri. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al padre mio che è nei cieli. Anche questo testo, testo molto intenso e testo molto impegnativo, è per me almeno uno dei testi molto impegnativi, perché si parla di una dinamica che è molto basilare del nostro modo di essere al mondo, che è la paura. Può far paura a volte la testimonianza evangelica, può far paura a volte l'incertezza, può far paura a volte la nostra inadeguatezza. E qua il Signore ci invita però a vedere il miglior antidoto alla paura, che è la fiducia nei suoi confronti. Prima di tutto, ancora una volta siamo avvertiti se non l'avessimo capito, un discepolo non è più grande del maestro, né un selve più grande del suo signore. Se hanno chiamato Belzebulo il padrone di casa, quanto più quali della sua famiglia. Quindi siamo avvertiti, dobbiamo aspettarci di condividere la sorte con il Signore. Non possiamo essere discepoli di un crocifisso e pretendere perennemente gli applausi su questa terra. Non è proprio possibile farlo, no? C'è una pagina molto bella di Ignazio di Loyola, dove Ignazio dice che l'amore per il Signore può portarci non solo a non disprezzare a volte quando nella nostra vita arriva la persecuzione, arriva la fatica, ma a desiderarla. Signore, desidero, dice Ignazio, stringermi ai tuoi obrobrino. Pensate il potere della fede. Il potere della fede ti porta non solo a non disdegnare la fatica, a non lasciarti distruggere, ma a volte persino a dire, Signore, c'è una gioia di fondo nella fatica che tocca la mia vita, che è la gioia di condividere la tua sorte. Quanti santi, no? Sacerdoti, ma anche padri e madri di famiglie, religiosi, missionari, alla fine confidano questa cosa. Certo che ho fatto fatica, però ho sentito il privilegio di condividere la croce del Signore. Non desidero la fatica a fine a se stessa, ma la accetto, la amo e non sento distrutta la gioia nella mia vita quando so che sto condividendo la sorte del mio Signore. Sono davvero uno dei vertici, no? Della nostra vita di fede, ma anche della nostra spiritualità come cristiani. Riuscire a sentire la consolazione profonda, pur nel dolore, nei momenti in cui mi sto associando alla passione, alla passione del Signore. Poi il Signore dice una cosa anche molto bella, non abbiate paura di loro, non abbiate paura di chi vi denigra, di chi vuole spegnere la vostra testimonianza, perché non c'è nulla di segreto che non sarà conosciuto. Questa cosa è una grande speranza, no? Che deve alimentarci. Noi certo che dobbiamo fare del nostro meglio per annunciare la fede, ma è il Signore il primo che nella storia continua con l'azione del suo spirito ad annunciare il Vangelo. Allora non è incerto l'esito della nostra battaglia. C'è un'affermazione molto bella che Alessandro di Alessandria scrive in proposito di Eusebio di Cesarea, un vescovo durante la controversia ariana, e dice lui pensa che su di lui riposino le sorti della Chiesa. Sembra un'accusa questa cosa qua. Alessandro accusa questo vescovo, che stava facendo di tutto per proporre l'arianesimo, di pensare che sia lui che debba risolvere le sorti del mondo, della Chiesa e del Vangelo. Non è così, non è così. Le sorti della Chiesa, le sorti dell'annuncio del Vangelo non sono in mano nostra. Per fortuna è il Signore che ha in mano la conduzione della testimonianza della Chiesa nella storia. E quindi il Signore ci invita anche un atto di fede, ma non abbiate paura. Non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato. Non abbiate paura della piccolezza del vostro annuncio. Non abbiate paura del fatto che sembra che tanti non vi ascoltino. Non abbiate nemmeno paura del rifiuto, perché è la logica del crocifisso risorto che alimenta la vostra testimonianza. Quando noi vediamo un po' le fatiche nella nostra vita apostolica a tutti i livelli, come ministri ordinati, come sposi, come persone di fede, davvero qui salta fuori la prova della nostra fede. Ma io credo che è il Signore che alla fine sta tirando avanti la baracca. O penso che le sorti del Vangelo e della Chiesa riposino su di me. Sono io il centro della mia azione pastorale? Eh no! Certo che è fallimentare un'azione fatta così. Chi mi conosce sa che io amo moltissimo le statistiche. Spesso quando inizio le conferenze lo faccio per statistica e mi rendo conto è che devo lottare contro di me con una tentazione, che è quella semplicemente di pensare che nell'annuncio del Vangelo valgano criteri statistici. No! La piccolezza, l'umiltà delle origini è la possibilità, se vissute con fede, di dare al Signore la grazia, la forza di moltiplicare ciò che noi seminiamo. Paolo lo dice benissimo nelle sue lettere, né chi semina né chi irriga è qualcosa, ma è Dio che fa crescere. Allora non temiamo, non c'è nulla che non debba essere un giorno annunciato a tutti. Quindi ciò che ascoltiamo all'orecchio, annunciamolo nelle terrazze, senza la paura dell'infruttuosità, dell'incomprensione, perché noi stiamo facendo la partita del Signore, non la nostra, no, su questa. Che bella poi questa espressione, non abbiate paura di coloro che sembrano uccidere il corpo. Guardate che tutti i dittatori di questa terra hanno avuto un sacco paura, soprattutto dei giovani, dei cristiani, degli intellettuali. C'è coloro che dicevano ricordati che non sei tu il Signore. intellettuali perché dicono, sì vabbè ricordati che non è vera quella roba che dici, dai capisco che quello che stai dicendo è un inganno. I giovani perché non vogliono farsi rubare il futuro. E i cristiani perché sanno che non ci sono signori su questa terra. C'è una cosa che io consiglio sempre ai giovani, vedo che a volte non si mettono mai in ginocchio durante la consacrazione, ma io lo dico sempre, mettetevi in ginocchio. Guardate che non è un gesto dello schiavo, ma di chi dice, Signore sei tu l'unico, io non ne ho altri di signori nella vita e avrò il coraggio di dire a tutti quelli che vogliono fare i signori, i padroni nella mia vita, non sei tu il mio Signore, è il Cristo. È il gesto massimo della libertà non è inginocchiarsi di fronte al Signore, perché quando mi inginocchio di fronte a Lui che mi solleva, poi non mi inginocchio più di fronte ai piccoli padroni di questa terra, e ce ne sono tanti che vogliono risucchiare la nostra libertà, che vogliono tenerci soggiogati. Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate timore di colui che ha il potere di far perire nella genna, e l'anima è il corpo. E soprattutto, poi la cosa bellissima che ci dice Gesù, se avete timore di Dio, sapete che non dovete aver paura di Lui, perché per Lui voi valete più di molti passeri, ma figuratevi, ma non c'è nessun passero su questa terra che non ci sia, se non nel suo volere, e voi per Lui valete più di mille passeri. Guardate che è un annuncio di grande liberazione che fa Gesù, non dovete aver paura di niente se l'unico di cui avete timore è il Signore, e non dovete nemmeno aver paura di Lui, perché Lui vi ama, non è uno che vi vuole tenere soggiogati. Quando il nostro Signore è solo Lui, e non abbiamo idoli nella nostra vita, siamo autenticamente persone libere, perché altrimenti va a finire che un idolo ce lo facciamo, non sia altro che noi stessi. Ecco allora poi la conclusione del Signore, il scopo della nostra vita è riconoscerlo davanti agli uomini, perché anche Lui ce li conosca. Il cuore di tutto questo non è fare supereroi, ma riconoscerci in una relazione con Gesù, la relazione importante della nostra vita. Grazie per aver seguito questo momento di ascolto del Vangelo e auguro davvero a tutti di cuore un buon sabato. Oggi termino gli esercizi, spero oggi pomeriggio di riuscire a registrare il commento del Vangelo di domenica e di riuscire a dare un'occhiata anche i messaggi che immagino mi avrete scritto in questa settimana. Ci vediamo allora per commentare assieme il Vangelo della domenica. A tutti un buon sabato!